Buongiorno a tutti Buongiorno 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 Per me è più piccolare, non c'è troppo in me, ho i tuoi figli. Guarda che bello questa! Francesco, alza dentro così! Ecco qua, non hanno proprio paura di non essere abituati. L'umano è anche strano! L'umano è anche strano! Questa è un po' più stretta! L'umano è un po' più stretto! L'umano è un po' più stretto! Tutti messi qua, guarda qui! Ti mettono lì per farti fotografare! Ciao! Ciao! Ma come sei bella! E il maschio dov'è? Eccolo là! Un, due, tre! Da qua si vedono che è una meraviglia! Guarda! Ce la mando io eh! Qua è una meraviglia! Qua è una meraviglia! Un, due, tre! Un, due, tre!